buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parleremo di generalizzare 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 noto attorno a me attorno alle persone che mi scrivono da tutto il mondo il fatto è che molti generalizzano che significa uno entra in una banca il cassiere lo tratta male e pensa che tutta la gente di quel paese giappone canada inghilterra italia germania spagna siano tutti così sbagliato perché inizia a generalizzare a farsi un pregiudizio a dire ah in quel paese degli stati uniti sono tutti obesi tutti cattivi tutti gentili tutti gli italiani si non si capisce nulla in italia bene ragazzi io mi ricordo una famosissima frase sempre della mia famosa mamma falcone che diceva tutto il mondo e paese io siccome leggo tantissimi lingue e dei libri in tante lingue inglese francese eccetera eccetera ti posso assicurare che dappertutto è così anche in cina c'è la persona gentile la persona cattiva eccetera 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 allora la nostra mente è portata a generalizzare perché è portata a generalizzare non è un fatto l'uomo è nato per generalizzare differenziare bla 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 si generalizza perché qualcuno quando abbiamo aperto gli occhetti io aggiungo a tre mesi nella pancia della mamma quando il feto il cervello è formato inizia a registrare come una scatola nera abbiamo acquisito questa chi più chi meno questa facoltà di generalizzare generalizzare ok che significa che ogni volta che vediamo un aspetto che ci piace non ci piace pensiamo che tutti siano così che ci sia il minimo comune denominatore tutte sciocchezze perché ti racconto tutto ciò per farti capire che puoi usare questa questa facoltà a fin di bene a tuo vantaggio per convincere il tuo subcosciente che deve si generalizzare ma sulle cose positive belle se la maestra ti ha detto sei un asso ripetitelo diventi la tua ossessione auto ipnotizzati da solo da sola e noterai dei miglioramenti incredibili senza se senza ma ok poi se non riesci ad uscire dal tuo passato perché adesso parlando di cose leggere ma magari ci sono cose gravi e compagnia bella puoi utilizzare l'ipnosi dcs vera professionale magari con un solo audio mp3 dcs che può fare al caso tuo come no passato negativo no depressione no ansia no panico oppure andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola da non confondere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista commerciale perché bisogna essere chiari anche nel mondo dell'ipnosi devi cercare lo specialista per il tuo caso per il tuo problema e non il generalista che fa un po di tutto e poi non raccoglie nulla di fatto ok ascoltami perché sono vent'anni sono in questo mondo e da più di vent'anni studio in tutte le università del mondo per cui scegli chi fa per te come faccio dottora a sceglierlo chi domanda comanda il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola se le riprendo te lo comunicherò però ricordati mai dire mai per cui generalizzare non va bene se va contro di te va bene se va a tuo favore sempre rispettando la libertà degli altri se non riesci ad uscire da questo stress causato dal generalizzare perché vivi in un paese non ti piace vivere utilizza l'ipnosi dcs vera professionale perché non esiste tecnica più potente e più sicura e più positiva senza nessun effetto indesiderato lascia stare i fuffaguru che dicono ci sono effetti indesiderati per lo 0,0001 per cento credi al potere della tua mente credilo credilo credi te stesso e te stesso e fai azione non fare non perdere gli anni migliori come li ho persi io quando ero uno studente lavoratore senza una rire in tasca dove avevo paura dell'ipnosi perché vedevo giù da scaselle i film dell'horror e gli zombie la manipolazione tutte scusami l'espressione cazzate con la k maiuscola per cui non perdere tempo agisci non c'è nulla di pericoloso pericoloso nulla di danno perché sono solo parole create ad arte pulite trasparenti create ad hoc incastrate in un certo modo e che fanno sì che la tua mente faccia il miracolo della tua stessa mente senza se senza ma ok tutto il resto lascialo perdere e poi comunque chi cerca l'ipnosi di cs vera professionale chi le ha provate tutte dallo yoga alla meditazione ad altre discipline alternative non ha trovato risultati bene usa sto mezzo e soprattutto segui le istruzioni alla lettera facilissima la prova di un nonno la prova di un piccolo la prova di un idiota continua 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 una cosa è certa se butti via l'orologio il tempo il calendario prima o poi puoi ottenere la tua soluzione in un anno secondo oppure senza perdere tempo perché il metodo di cs non ruba il tuo tempo lo ripeto lo sottolineo ancora una volta fammi tutte le domande del caso visita la mia fanpage su facebook ipnosi o ipnosi del dottor caldo saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me nel 2008 ragazzi ha stravolto la mia esistenza il mio vivere io adesso mi ipnotizzo h24 asci vincate dicono in francese perché sento l'energia scorrermi addosso e anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra da più di 12 anni mi ipnotizzo h24 pur non avendone bisogno ok però a me non costa nulla non mi ruba tempo per cui che me che mi importa mi ipnotizzo mi ipnotizzo h24 non trovo il telecomando per cui vediamo un po se lo trovo scusa un po fa parte della vita vediamo se è caduto niente va bene ti saluto ok credi in te stesso in te stessa non pensare a chi dice impossibile non esiste non è vero l'ho trovato devi convivere devi accettare ragazzi io un tempo quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca era la persona più stressata più nervosa più depressa più ansiosa avevo il peso al petto la mattina mi svegliavo tremavano le mani eppure non avevo ridicato con nessuno mi faceva spessissimo ma avevo mal di testa cronico dappertutto fumavo tre pacchetti sigarette compagnia bella per cui di cosa stiamo parlando oggi sono una persona libera 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 grazie a dio non ho bisogno di vendere audio mp3 dcs neanche video corsi o corsi di ipnosi perché sto bene per le prossime 37 vite e non lo dico per vantarmi ma per ispirarti grazie al potere della mia mente all'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola la mia mission su questa terra finché respiro finché cammino finché sono vivo è quello di trasmetterti le mie esperienze a te ai miei posteri quando non ci sarò più perché almeno queste parole possono arrivare anche ad una persona nel mondo di buona volontà che vuole cambiare la propria vita ok non mi interessa il resto non faccio questo lavoro per mangiare lo faccio per lasciare un messaggio all'umanità alla gente di buona volontà ai miei posteri ai tuoi posteri poi ai posteri lardo sentenza fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino iscriviti per favore su questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino e facer condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao